Il tema che voglio condividere con voi è un tema non nuovo perché parlerò di vendita, il mio tema di ricerca, quello che mi appassiona, vi parlerò però di aspetti commerciali, diremmo rispetto ad altri temi che abbiamo sentito molto molto tradizionali. Ve li racconto però con la prospettiva di chi è molto appassionato e di chi cerca di vedere questo mondo, di chi si occupa di vendite, sotto la prospettiva più scientifica che è la prospettiva di come spesso viene visto con molto intuito e molta pancia. Il mio gruppo di ricerca mi piace chiamarlo Sales Science, di chi si occupa di scienza nel mondo della vendita. Per iniziare questo ragionamento inizio da un percorso raccontandomi una mia ispirazione e cercando di ragionare sul concetto di stereotipo perché questo mondo è un mondo che vive di stereotipi e da questo punto di vista ne subisce le conseguenze. Prova a articolare un po' il ragionamento partendo da dove a me è venuta l'ispirazione di occuparmi di questi temi di ricerca che avevo il piacere di condividere oggi. Sapete l'ispirazione nasce di solito da cose molto semplici, non da cose troppo complesse, da momenti di quotidianità, da osservazioni veramente banali direi. Allora l'ispirazione nasce un mercoledì pomeriggio, mi chiedono una tesi su questo tema, sul tema del Sales Management e inizio a lavorare col mio studente cercando di sviluppare un progetto di tesi che possa essere interessante e rilevante per lui e a un certo punto gli domando, ma scusa, ma tu la faresti una carriera nel mondo commerciale? Faresti una carriera nelle vendite? Lo studente dell'Alto Maceratese mi risponde, professore, ma che ho studiato a fare? Mi dice no perché, scusate ma era molto diretto, ma perché per fare quel lavoro lì è necessario studiare? C'è bisogno di competenze? O non è un modo in cui o si nasce o non si può fare? Questo pensiero mi ha fatto molto riflettere perché vedevo un distacco fortissimo fra quello che era un pensiero di un mio studente e quello che invece è la realtà, perché è una realtà un po' diversa da come la vive il mio studente. E allora che cosa ho iniziato a riflettere? Ho iniziato a riflettere sulle tante scorciatoie mentali che ci prendiamo, no? La nostra vita è fatta di scorciatoie, cioè a volte per decidere cerchiamo di prendere delle cose già confezionate, ne troviamo di tante tipologie, di tante modalità. È chiaro, la realtà è complessa, ci abbiamo poco tempo, poche risorse, scegliamo a volte, a volte non ci riflettiamo troppo. Il punto di vista di quello studente era molto chiaro. Io ho uno stereotipo e quello stereotipo mi serve per decidere, non affronto quella carriera perché ho studiato. Questo mi fa riflettere tantissimo, perché ripeto, il mondo che vedo, il mondo che vivo è abbastanza diverso. E lo stereotipo di cui vi parlo è lo stereotipo delle professioni, ce ne sono tantissimo, pensate a tutti gli uomini presenti in sala che stanno immaginando la moglie a casa con l'idraulico. Tutti molto preoccupati di questo, se era a casa con un docente universitario sareste stati tutti quanti molto più tranquilli di questo. Può capitare. Gli stereotipi sono tanti, il professore universitario si occupa di ricerca, adesso non ho portato, ma se non ho un grembiule, che ricerca faccio? Ok, andiamo avanti. Allora, il stereotipo che mi interessa è il stereotipo su questa figura qua, la figura del venditore. Mi piace tantissimo affrontare questo tema perché due caratteristiche di questa professione, venditore inteso in senso ampio, è la professione che è sempre esistita. Non è pena l'uomo ha inventato il commercio e c'era qualcuno che doveva farlo e perciò è sempre esistita. Se poi vedete i dati del World Economic Forum presentati quest'anno, la professione di cui parliamo continua ad avere un forecast che è un forecast positivo. è evidente che sono cambiate tante cose, le competenze richieste, il livello di maturazione della figura, le skill che vengono richieste a questo soggetto sono profondamente cambiate, ma il forecast continua ad essere di tipo positivo. L'altra caratteristica che contraddistingue questa figura è che gli stiamo cercando di trovare un'infinità di nomi, business development, account manager, key account manager, pur di non chiamarlo venditore. Allora questa è la copertina dei miei libri, scusate l'ho fatta ieri in aereo, c'era turbolenza, si vede abbastanza male, però scrivere un libro è abbastanza complesso, vi assicuro è tra le cose più difficili e faticose che esistono, per lo meno per chi le fa, ce ne sono anche altre più complesse sicuramente, però per uno poco creativo come me, una cosa difficilissima è scegliere la copertina. In effetti non vi parlo del contenuto, ma vi parlo della copertina. Allora mi arriva l'editore che mi dice guarda che domani mattina devi consegnarci la copertina, prendetene una, cioè io sono interessato al contenuto, non alla copertina, sono una personalità, la devi scegli lei, va bene la scelgo io e l'ispirazione mi porta la seconda a scegliere questa copertina, non c'è niente di bello, solo il concetto che c'è dietro. Quel mondo di cui parliamo, quello delle vendite, ha tante prospettive diverse, da un lato la prospettiva rossa di chi vede quel mondo come qualcosa di negativo, non positivo, dopo ne vedremo alcune, e l'altro invece che dice no, no, ci serve, ci serve come, diventa fondamentale. Se non ho una rete commerciale che condivide i miei valori, non ottengo i miei obiettivi, due prospettive profondamente diverse. Adesso andremo a vedere alcuni profili, cercando un po' di studi scientifici su questo, su cui possiamo condividere proprio questa prospettiva. I media, che cosa dicono i media su questa professione. In modo particolare vi parlo di film, c'è uno studio bellissimo della collega Ria Guid della Royal Institute of Stockholma, in cui analizza con un metodo semiotico dieci film, i più grandi film che hanno visto come personaggio principale un venditore. Per citare alcuni alla ricerca della velocità, i pirati della Silicon Valley, Lord of War, e tanti altri. Quello che viene fuori, però è questo il messaggio che ci arriva dal mondo dei media, è un profilo molto chiaro, con dei caratteristiche altrettanto chiare. È una figura proiettata nel brevissimo periodo, che non si interessa della sua reputazione, una figura che vive o manipolato o cerca di manipolare. Vive in bilico fra carrot and sticks, bastone e carota, con una prevalenza, lasciatemi dire, del bastone sulla carota, ma due caratteristiche mi hanno molto colpito di questo studio. Lo stereotipo che viene fuori ha due caratteristiche. Una è una morale flessibile. Allora, se tu sei un ragioniere, intergerimo, però se fai il venditore la tua morale deve essere una morale flessibile. L'altra cosa che mi ha molto colpito è che in tutti questi film viene fuori una figura professionale del venditore che ha problemi familiari. Adesso io non so chi di voi faccia questo di professione in sala, però devo capire sempre perché il ragioniere ha una famiglia del mulino bianco e il venditore ha una moglie che scappa, vabbè non mi soffermo su questo però. E questa è la visione dei media. E se chiedo ai genitori? Ci saranno genitori in aula? Quanti di voi hanno preso in braccio il figlio, l'hanno guardato, appena andato ha detto guarda, vorrei che tu fossi un venditore. Allora, in uno studio ho intervistato duemila genitori, duemila genitori in giro per l'Europa e a questi duemila genitori è stato chiesto che professione volevano per i figli. Non vi interrogo su questo, vi svelo subito il risultato. Su questi duemila solo uno coppia ha detto guarda, io vorrei che il mio figlio fosse venditore. Sono dieci anni che la cerco ma non riesco a trovarla. Allora, se chiedo ai miei studenti, lo studente dell'Auto Macerettese già sapete cosa pensa. Però in generale, questo mi piace condividerlo perché ci sono diversi progetti che sto portando avanti soprattutto per riflettere su quanta questa professione possa dare una prospettiva anche occupazionale a molti dei nostri studenti. Ripeto, i profili che le imprese cercano del profilo del venditore si stanno sempre di più alzando. Ma cosa pensano gli studenti? Allora, su questo abbiamo condotto all'interno di Incomes, che è uno dei progetti che sto portando avanti, finanziato dai progetti europei, che ha fortemente voluto questo progetto, che cerca proprio di dare alle università strumenti per fare training nel mondo sales. Abbiamo fatto però uno studio antecedente al progetto in cui abbiamo intervistato in cinque differenti nazioni decine di studenti per cercare di capire qual è il loro percepito. È uno dei temi per ingaggiare gli studenti è stato quello di chiedere quale animale fosse richiamato alla mente nel momento in cui pronunciamo la parola venditore. Allora, vi anticipo che vengono fuori due profili diversi, che l'abbiamo raggruppato. Un primo gruppo, che è quello più numeroso, mi dà una risposta che in parte è scontata. Il venditore è un felino, una tigre, un leone? O se invece non è un felino ma è un rettile, un camaleonte? Se è un mammifero è una volpe, ok? Se è un pesce invece è uno, non è. È uno squalo, uno squalo, immagina la bella reputazione che ha, lo squalo. Dei caratteristiche chiarissime, molto chiare le caratteristiche dello squalo, sono quello che lui vede la preda e come percepisce il sangue che per il venditore è il business, non resiste, ok? Va, azzanna e conquista la preda. Questa è una prospettiva, però lo stimolo che ci dà questo studio è diverso. C'è un piccolo gruppo di ragazzi, quelli che hanno fatto un certo tipo di corsi, non solo economia in genere, ma che hanno fatto corsi di sales e marketing, che hanno una prospettiva totalmente diversa, perché il percorso formativo cambia, è la grande forza di cambiare gli stereotipi. Per questi ragazzi una delle frasi citate, degli animali citati è quella del kangaroo, il canguro, ok? Lo coccola, lo tiene in pancia, lo fa crescere e poi a un certo punto può anche lasciarlo libero di andare, ok? Ma lo cura, si parla tantissimo di customer care. Ah, e le università? Le università che fanno su questo? La mia, è già attrezzata, ma vi dico solo questo dato, l'insegnamento sales è praticamente assente nelle università italiane. Su 400 esami di marketing che ci sono a livello complessivo solo una dozzina circa sono focalizzati su questo tema. Ci fa capire con chiarezza quello che è l'orientamento. Nella nostra università c'è questo esame. E le imprese? Ah, le imprese hanno un'idea abbastanza chiara. In un recente rapporto fatto dalla società italiana di marketing che si chiama Il mestieri del marketing, si rende evidente come quasi il 50% delle richieste di lavoro hanno dentro anche la richiesta di competenze sales. Ma soprattutto le imprese cercano sempre di più competenze elevate alla loro rete commerciale, non solo la capacità di vendere, ma quella di pianificare, gestire un processo, avere delle skill molto più alte, essere digitale, avere capacità interculturali. E i professori? Chi si occupa di ricerca in questo mondo? Beh, sicuramente hanno da tempo lavorato su questo tema. 1999, Juno Academy of Marketing Science, Bartow Waits, che è un paffutello collega americano bravissimo, citava il vostro venditore è il primo creatore di valore per la vostra impresa. Il punto di vista è molto chiaro. Il tema è che fra queste prospettive c'è un abisso. Quello del mio studente, è quello degli scholar. Allora c'è bisogno di far ragionare, di far riflettere su questo tema, perché le prospettive sono molto diverse. Allora, due riflessioni. La prima riflessione è, cambierà questo stereotipo? Cambierà questa idea di vedere semplificata la realtà senza andarci dentro e fare delle scelte non considerando questa carriera? Sì, con una certa certezza. Gli studi accademici che abbiamo rintracciato negli ultimi 40 anni ci dice che l'atteggiamento nei confronti di questo tema non è assolutamente cambiato. Gli stereotipi fanno fatica a cambiare. Nella realtà non sono 40 anni, ma da uno studio che sto facendo con un collega sociologo emerge con chiarezza che lo stereotipo era già presente nel medioevo. Non si chiamava commerciale, si chiamava commerciante, ma lo stereotipo è assolutamente quello. Però attenzione che questo ha una ricaduta economica forte, perché se le imprese cercano quel tipo di profili e genitori e figli ed altri non vogliono quella carriera, il tempo di immissione al lavoro crea dei costi notevoli. Nell'ultimo rapporto realizzato dal Sales Education Foundation stima in 180 mila dollari i costi di formazione di un manager delle vendite che parte dal basso e arriva all'apice. Questa esternalità non ce la possiamo permettere, penso che questi due mondi devono fortemente parlare. Penso che molto c'è da fare pensando che prima di affidarci ad uno stereotipo dobbiamo immaginare che quel mondo è cambiato, è cambiato fortemente. Pensare che quella figura che noi chiamiamo venditore chiaramente non è solo venditore, a lui gli chiediamo una visione sempre di più strategica, sempre meno operativa, competenze digitali, competenze internazionali, competenze dal lato marketing, ma vogliamo sempre una figura formata e sempre come in stile Sales molto concreta. Grazie.